Il mancato accordo in sede di conciliazione con l'associazione datoriale IOP è alla base dello sciopero nazionale proclamato da FP CGL, CISL, FP e UIL e FPL che ha portato le tre sigle sindacali lucane a manifestare avanti la sede della regione Basilicata Potenza. Secondo quanto denunciato dalle parti sociali, IOP ha dichiarato di non aver nessun vincolo alla sottoscrizione di un contratto con l'associazione regionale Istituti Sociosanitari né di doverlo firmare con CGL e CISL e UIL e che il contratto di riferimento per IOP è quello sottoscritto con UGL con il quale è già aperta la trattativa. Un'affermazione hanno denunciato le tre sigle in netto contrasto con quanto era stato definito al momento della sottoscrizione del contratto collettivo nazionale Sanità Privata, intesa che aveva delineato un percorso unitario e condiviso di apertura negoziale ma che così facendo, continuano FP CGL, CISL, FP e UIL e FPL, sta disconoscendo gli affidamenti assunti tra la Presidente di ARIS e i tre segretari generali dei sindacati. Per chiedere fondamentalmente due cose, in primis il rinnovo del contratto ARIS-IOP e seconda cosa il rinnovo delle tariffe che come noi sappiamo benissimo sono ferme da oltre 15 anni. Noi ad oggi abbiamo un contratto IOP-RSA che non viene rinnovato dal 2012 e che è stato sottoscritto soltanto con un sindacato autonomo. Chiederemo alla Regione di farsi carico di questo problema e di sospendere le convenzioni con quelle associazioni che dovessero perseguire su questo atteggiamento.